Ascolta, qual è il messaggio che vuoi mandare alla Romagna? Tu che sei un romagnolo, se vogliamo. Sono un romagnolo dentro. Dentro. Qual è il messaggio che vuoi mandare alla Romagna? Senza la piedina, si fa niente. Basta? Basta. Un saluto a tutti? Cioè, ti ricorderanno come l'antipatico? Siete tutti dei teronici. Io che vengo giù dal nord, respiro aria diversa. Grazie. Enrico l'antipatico.